ecco siamo con beppe bussu il trekking finisce qui finisce a casa sua come le ha accolti questi cavalieri con tanta pazienza li ho dovuti prima radunare e poi con l'incitamento del mangiare sono riuscito ad ottenere attenzione bene bene benissimo bel gruppo con tanto a formaggio anche eh certo con l'ispirazione del formaggio si sono tranquillizzati li abbiamo messi seduti gli abbiamo spiegato tutte le nostre produzioni perché è un'azienda agricola a pienza che fa più di 20 tipi di formaggio sono rimasti belli interessati e per i primi 3-4 minuti di assaggio sono anche stati zitti quindi vuol dire che gradivano assolutamente dai fatti un po di pubblicità dai raccontami un paio di formaggi buoni buoni che piacciono anche a te oggi oggi c'era quello con la muffa dentro quindi l'erborinato latte di pecora bello bello interessante e l'imbarriccato sottofieno che era un bel formaggio con un lunghissimo retrogusto che poi come spiegava cavalieri oggi ne abbiamo beccato una mandata con fieno di sulla che è l'erba che caratterizza i sapori di questa valle e quindi era veramente veramente interessante senti tu ti chiami busso e chiaramente origini sarde com'è il tuo rapporto con i cavalli è abbastanza assente perché noi siamo dei busso siamo il ramo il ramo specializzato tra parentesi con l'allevamento delle pecore poi di busso c'è l'altro ramo specializzato con i cavalli io appartengo a quello delle pecore per cui è un po' scarso il rapporto perfetto grazie mille di tutto quello che prego prego grazie a voi grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.